Nel segno del centrocampo, il successo del Taranto sul Catania è stato frutto in particolare della forza della zona nevralgica e ha visto protagonisti tutti gli interpreti del reparto. In primis Marco Civilleri, ma le prestazioni dell'atleta siciliano non fanno più notizia. Inizialmente schierato dalla terza nel ruolo di mezzala a destra, il classe 91 ha poi svariato anche sulla tre quarti senza dare punti di riferimento agli avversari. Il gol del momentaneo 2-0 altro non è che il giusto omaggio per un percorso sempre in crescita. Marzili invece è tornato a sfornare assist deliziosi, suo il servizio per Belloc, Valzo e il definitivo 3-2, punteggio con cui Rosso-Blu hanno interrotto il periodo no e sono tornati a vincere a distanza di due partite. L'argentino dal canto suo era reduce da prestazioni poco trascendentali, invece con il gol si è riscattato e tutto l'ambiente ionico spera ora in una sua continuità. Promosso anche la Briola che potrà senz'altro tornare utile alla causa. La squadra intanto nel pomeriggio si ritroverà per preparare il match di lunedì prossimo contro la Juve Stabia. Da valutare le condizioni di Ferrara, infortunatosi due giorni fa, e di Saraniti, assento ormai da tre settimane. Mancherà sicuramente Granata che verrà squalificato per un turno. Adios story Adios story